Durante un sopralluogo ho notato che il parco aveva delle criticità pericolose per il cittadino. E' stato immediatamente fatto un sopralluogo, chiuso e sono state eliminate queste criticità. Penso quasi totalmente. Quindi l'abbiamo reso fruibile al traffico ai cittadini e ai bambini. C'erano delle voragini abbastanza pericolose per i minori. Era stato chiuso un mese fa a causa di numerosi dissesti e viene oggi restituito al quartiere grazie ai lavori eseguiti da Napoli Servizi e coordinati dall'assessorato al Verde e dagli uffici tecnici della Municipalità. Il parco San Gaetano Enrico in Viare delle Galassie a Secondigliano fu realizzato su un'area precedentemente occupata da prefabbricati. Ha un'estensione di 33.000 metri quadrati ed è attrezzato con campi polivalenti e pista di pattinaggio, oltre a zone con installazioni ludiche. Un altro spazio è stato concepito come orto didattico ed è attualmente precluso e nell'impianto a verde spiccano due esemplari di pioppo preesistenti di circa 70 anni di età ed una flora arborea prevalentemente esotica. L'orario di apertura, come per gli altri parchi cittadini, è dalle 7 alle 20 e 30. L'orario di apertura, come per gli altri parchi cittadini, è dalle 7 alle 20 e 30. L'orario di apertura, come per gli altri parchi cittadini, è dalle 7 alle 20 e 30. L'orario di apertura, come per gli altri parchi cittadini, è dalle 7 alle 20 e 30.